Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l'Altissima, l'Onnipotente, Tu Padre... Vi dicevo della cella di Cortona, Francesco non dice nulla perché andrebbe contro l'obbedienza, perché aveva avuto l'obbedienza di non dare mai più il mantello a nessuno, altrimenti i frati devono sempre comprare il mantello nuovo. E lui, dice la fonte, con gli occhi incitava il povero, il quale uncis manibus, non iuntis manibus, attenti che lo speculum perfezionis dice iuntis manibus, il testo più antico è uncis manibus, cioè lui tirava il mantello da una parte e i frati dall'altra. Francesco da parte che gli diceva con gli occhi resisti, resisti, e alla fine ha vinto lui. È chiaro che non è un mantello di pezza, perché con la pezza si sarebbe strappato. Anche questo è uno dei modi splendidi per obbedire e al tempo stesso fare la volontà della carità. Ma è interessante un altro fatto, tanto che siamo in questa creatività della carità. Francesco dice al cuoco, non ricordo se si chiamava frate Stefano, l'abbiamo in una fonte di italiano Umbro, di Rieti, una vita riatina di Francesco. E si dice appunto che Francesco, al cuoco che gli chiedeva, ma devo mettere a mollo i fagioli, che i fagioli seccati poi rimanevano anche per l'inverno, eccetera. E Francesco dice no, il Vangelo dice che non devi preparare per il giorno dopo, non devi aver cura per il domani. E il frate ha detto, va bene, il giorno dopo a pranzo, Francesco dice, ma è solo questa erba e i fagioli? E il frate gli dice, ma l'hai detto tu di non metterli a mollo? E non ci sono. E Francesco risponde, non sempre bisogna fare quello che il superiore dice. Questa è fonte, è parola di Francesco. E poi inizia un problema di ordine morale, spirituale, eccetera. E' la carità che è la legge di ogni cosa. Carità, attenzione, ma in nome della carità, ci sono dei peccati enormi che si fanno. Cioè, il difficile è vivere la vera carità, la perfetta carità. La perfetta carità è non giocare con le virtù a proprio comodo. Perché è molto, molto facile. Ma questo per dirvi quanto è delicato il mondo delle fonti. Se uno mi prende una fonte come questa, dove dice non sempre bisogna obbedire, mi tracolla il voto di obbedienza. Ma anche qui un po', vedete il guardiano, dice, fratello, fa quello che ti sembra a te, meglio. Ma non sempre i guardiani facevano quello che Francesco considerava. Francesco obbediva. Ma anche qui è un'obbedienza, si vede, un po' parziale questa. E' la carità. Frate Ginebro per la carità arriva a degli eccessi. Sembrano ridicoli, ma è sempre mistica della carità. Poi lo rimproverano, perché non si fa così. Al tempo stesso Francesco, il famoso testo da leggere in latino, del piede di porco tagliato. Francesco dice, ma ne avessi di frate Ginebro. Ma dopo che gli ha fatto una tirata di quelle che, in nome della carità, non puoi andare ad azzoppare un maiale. E lasciarlo andare, perché a lui interessava solo il piede, perché il frate infermo voleva, aveva la voglia del piede bollito, che sapete per i contadini è una squisitezza. Per i cittadini è una schifezza, direbbero. Davvero, perché è quel grasso molto eccetera. Per qualcuno è insopportabile. Per altri invece, chi è nato in guerra, la coda alla vaccinara, per esempio, di Roma, è una squisitezza, è un po' simile al piede di porco. E notate che stiamo entrando nella vita vera, nella vita vivente, dove il principio è la caritas, quella che ha portato Gesù sulla croce. Sotto la croce c'erano persone che parlavano dell'amore di Iave, dei comandamenti di Iave, del Signore. Ma in nome di quei comandamenti non hanno capito la volontà di Dio. È una cosa non semplice, anche nei Vangeli, ma anche nelle fonti francescane. Dice, prendi questo mantello e dodici pani. Io qui ho messo dodici perché? Forse anche per fedeltà al Vangelo. Ma i pani di Rieti nel Medioevo sono pani rotondi, che sono consistenti. Dite, non servono per una povera donna. Lei li può vendere e farsi dare altre cose o addirittura delle monete. E vai e di così a quella povera mulieri paupercule, nell'altra fonte è il contrario, è malata, che ti indicherà il medico che la sta per medicare, per operare. Il povero uomo, digli così, il povero pauperomo, il povero uomo, l'uomo povero, al quale accomodasti, o comantellum, accomodare è simile ad accipere mutuo, cioè hai prestato, hai accomodato, hai dato un comodum ad, comodum vuol dire che è in prestito, comodato, non so se ricordate, è un termine ancora oggi che si usa in queste transazioni. Questo mantello ti ringrazia per il prestito, mutuazione, accipere mutuo, mutuare, mutuazione, accomodare, tutti i termini specifici economici, di pura economia questi, del mantello che a lui hai fatto, una specie di contratto fatto con Francesco. tolle, prendi, quello che è tuo. Andò questo compagno e disse, illi, questo è un errore latino, in realtà bisognerebbe dire al femminile, ille, perché il latino ha le sue forme, ma lasciate così, se la fonte sbaglia, lasciatela sbagliare. Tutte le cose come gli aveva detto il beato Francesco. Illa, qui vedete che ritorna il femminile, vero, existimans, cioè giudicando di essere presa in giro, perché anche quando ti danno qualcosa, magari ti danno e poi se la riprendono, illudi, illudere vuol dire giocare dentro, cioè giocare, prendendo in giro, non giocare per poco tempo, ma è un'organizzazione di gioco. È lo stesso termine che troviamo nella illusio della coronazione di spine, nella traduzione latina. Con timore de verecundia dic citadeum. Questo è un capolavoro linguistico dialettale. Dimitte me in pace, cioè lasciami stare in pace. Questo è italiano-latino, dimitte me in pace. Lo potreste dire anche voi quando qualcuno vi scoccia, così dice, lasciami in pace, lasciami stare. Dimitte me in pace. Nescio enime qui dici. Non voglio sapere, non conosco quello di cui tu parli. Notate che c'è una differenza nel celano. Dimitte me in pace con tuo mantello. è ancora più evidente, però è facile che sia... Il tuo mantello tienitelo per te, lasciami in pace col tuo mantello. Nescio quid lo quaris. Vedete la differenza? È più facile, però, la versione più breve è che sia quella antica. antica. Nescio enime quid, che cosa tu dici? Quid dicas, bisognerebbe dire. Però gli errori latini è un latinus erroneus, lasciatelo pure. Il levero, che cosa fa il frate? che pone il mantello e i dodici pani, immaginate cosa vuol dire portare una sporta di dodici pani, ai piedi, cioè nelle sue mani, cioè gliel'ha messe lì davanti. La donna, considerando che magari in verità te aveva detto, non che la prendesse in giro, cunt tremore t'exultazione cordis. Questa è una frase molto biblico-patristica, per cui dovreste ridurla magari solo con tremore, oppure solo con exultazione, con gioia. Accipitillum, cioè quel dono lo prese e temendo che glielo riportassero, che ripensassero al dono, ah scusi, abbiamo sbagliato, ci può ridare il mantello e i dodici pani, sul rexit de notte, cioè di notte si è alzata, occulte, cioè di nascosto, et reversa est gaudens in dobum suam, cioè si è preso tutto e non ci vedeva neanche bene, ha rinviato l'operazione. attenzione che fare tanti chilometri con dodici pani vuol dire che vale la pena, con un mantello nuovo o seminuovo vale la pena di farlo, rinviare l'operazione vale la pena, cioè c'è anche il valore economico dietro a questo. questo è bello, su rexit de nocte occulte et traversa est gaudens in dobum suam. In Moetiam aveva detto il Beato Francesco dunque al suo guardiano che ogni giorno dove si rimaneva lì a Rieti aveva già dato l'ordine che tutte le spese dell'operazione illi, cioè ille, qui è un altro errore, come sopra, illa e le famose expenses che diceva il medico che avrebbe dovuto lui sopportare i frati dovevano procurare loro le expenses per la donna che però quella era già partita e il frate sarà stato più che contento nel non sombarcarsi le expenses di quella donna. Non è facile leggere le fonti, non so se cominciate a capire, ci sono dei termini tecnici, ci sono dei termini difficili, a volte delle dei termini anche spirituali come amore dei è una formula mistagogica per Francesco e cioè è una formula che sintetizza tutta l'opera della salvezza, l'amore di Dio Padre nella croce di Gesù con lo Spirito Santo. Vi dicevo del segno della croce, il modo arcaico per celebrarlo sarebbe in modo giudeo-cristiano in nomine, fatelo anche in latino tanto è uguale, in latino inglese, portoghese, mongolo, c'è la chiesa di Mongolia che sono cinquantina di cristiani per dire. bisognerebbe fare nel nome piccola pausa perché nel nome è la persona vivente di Dio palpitante, toccabile, tangibile nel nome Padre, Figlio, Spirito Santo addirittura eliminando le E perché le E sono state introdotte contro gli ariani che dicevano che Gesù non è uguale al Padre allora invece il Padre e il Figlio la E è uguaglianza perfetta è lo stesso ecco nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo è il nostro anti-ariano che va bene quando avete le tentazioni di non considerare Gesù uguale al Padre fate il segno della croce latino nostro quello giudeo-cristiano dovrebbe essere nel nome ma non celebratelo fino al prossimo concilio state nel normale guai a voi se toccate qualcosa però dentro di voi potete anche durante la meditazione variare il segno della croce dicendo nel nome due secondi di pausa Padre Figlio Spirito Santo senza E né virgole né nulla e il terzo modo molto bello da parte dello stile basiliano di Basilio nel nome del Padre con il Figlio nello Spirito Santo questo è molto orientale e un quarto modo ancora più antico direi antignostico di Ireneo di Lione è alternare le persone cioè potreste dire nel nome di Gesù con lo Spirito Santo nel Padre potreste dire nel nome dello Spirito Santo con il Padre in Gesù cioè questo è un testo famoso di Ireneo di Lione nella Epidexis la Demostratio Fidei siamo nella prima metà del terzo secolo dove il Padre ci dona il Figlio e lo Spirito è Gesù che ci porta al Padre nello Spirito è nello Spirito che puoi accedere a Cristo e al Padre è bellissima come sintesi teologica e la si può trasformare in tre modi per celebrare il segno della croce il segno della croce è talmente prezioso che è una celebrazione celebrazione vuol dire un gesto un qualcosa che è comunitario in quel caso è davanti a tutta la Chiesa che io faccio il segno della croce questi sei modi di fare il segno della croce credo che non siano molto conosciuti sono in Portogallo poi anche in Germania anche in Brasile fanno così 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 e così anche sì ma al tempo al tempo di Cirillo c'era il piccolo segno sulla fronte anche potreste fare un segno di croce piccolo non fate gli esoterici gli esoterici potrebbero dirvi e non fatelo mai che la croce è un simbolo dei quattro punti cardinali oppure un massone potrebbe fare un segno di croce con il triangolo oppure con bisogna stare attenti le fantasie le fantasie spirituali bisogna stare un po' attenti cioè il nostro segno di croce del primo secolo secondo secolo quarto secolo ha grande importanza non sottovalutatele dite ma non le sappiamo bisogna un po' studiare la patristica bisogna un po' studiare la teologia per rimanere fedeli alla semplicità della liturgia per cui non cambiate nulla della liturgia ma nella testa abbiate la certezza che persino un segno molto semplice come un segno di croce è la sintesi di tutta la storia della salvezza dell'eternità e di tutta la sapienza teologica se uno mi fa un segno di croce convinto di quello che fa narra tutto il mistero di Dio è scandaloso perché poi quando voi dite nel nome del padre significa che il padre è vicino al mistero della croce infatti si dice il padre non risparmia il proprio figlio ma lo dona per tutti noi il padre ha tanto amato il mondo da dare il proprio figlio e lì la teologia della via crucis del calvario trinitario che comincia dal Gezzemani è tutta da scoprire gli antichi avevano davvero cose grandi che dovremo forse un po' alla volta lavorare perché le prossime generazioni ammirino con assolutezza la grandiosità dell'amore di Dio andiamo a vedere un altro questo cos'era ecco questo è un altro testo splendido del Natale di Greccio se volete lo leggiamo già in una versione calco veloce e anche questo è un testo profetico cioè tante cose che si dicono sulle feste dei frati vanno tutte riviste cioè la festa è l'amore di Dio quella è la festa un certo tempo qui avete il testo latino il testo latino più lo avvicinate poi a quello italiano e meno gli occhi vi andranno in diventeranno stramici un certo ministro dei frati a Rieti Greccio è vicino a Rieti Rieti era anche città pontificia cioè il papa andava a volte nel palazzo di Rieti e risiedeva alcune bolle papali recano Rieti non Roma o San Giovanni Laterano venne al Beato Francesco che abitava allora in quel luogo di Greccio per celebrare la festa della natività del Signore con lui alcuni testi dicono per celebrare la Pasqua e la Pasqua secondo alcune tradizioni ancora oggi è già il Natale il modo di dire Natale in alcune regioni è celebro la Pasqua Pasqua e guardate che è una preziosità vuol dire che la Pasqua ebraica già l'incarnazione è la prima tappa della grande Pasqua di Gesù Pasqua vuol dire venire incontro al popolo amato e le tradizioni popolari non sono tutte banali a volte nascondono cose di archeologia culturale e anche in questo caso teologica ricordo in una predica quando dissi a Milano 25 anni fa celebriamo la Pasqua in questo Natale un mio studente che poi è diventato provinciale se l'è ricordato per mesi e mesi quella battuta perché dire in predica che stiamo celebrando la Pasqua a Natale se uno anche si addormenta si sveglia ma cosa sta dicendo questo predicatore e fatto fu che e fatto mes tut che i frati del luogo frates del luogo onorifice cioè in modo onorifico prima avevo scritto solennemente ma in modo onorifico è proprio più preciso avevano preparato la mensa nello stesso giorno della Natività in occasione di quel ministro per cui nasce Gesù viene il provinciale quale festa più grande e l'hanno preparata la tavola con belle e bianche tovaglie togliete il belle lasciate solo le bianche tovaglie è già bello per i frati che non usano mai le tovaglie noi capuccini abbiamo la tradizione ancora oggi di non usare mai nessuna tovaglia ma tutti i riformati francescani se avete occhio che avevano acquistato cioè comprato e con vasi di vetro per bere vasi di vetro vasi svitri sono i bicchieri questi sono di plastica alla vostra salute e bicchieri di vetro sono non sono in genere i bicchieri che ancora i nostri usavano prima del concilio che erano di legno erano delle ciotole di legno quelle che usavamo tra parentesi si spaccavano quasi mai per cui andavano bene appunto il beato Francesco discendeva dalla cella quella cella romitoriale che era vicina al refettorio vicina nel circondario è la famosa stile quasi come il subasio greccio ci sono facilmente delle celle nelle vicinanze e per ad comedendum cioè la comestio comedere vedete con i frati e poiché aveva visto la mensa in alto collocata in alto un posita vuol dire che i frati in genere mangiavano a terra cioè seduti per terra in alto un collocata vuol dire su un tavolo con delle panche attenzione ai particolari perché si gioca poi tutto lo stile di tante cose andò di nascosto prese il cappello di un certo povero uomo il cappello medioevale è fatto bene con stoffe splendide innanzitutto è impermeabile il cappello ed è a falde larghe perché se viene della pioggia è chiaro che vi protegge anche le spalle il famoso cappello cardinalizio con le falde larghe dei preti di una volta non è per scherzo ogni cosa che voi vedete nella chiesa alle origini ha un senso di utilità cioè si fa quello perché la vita ti obbliga a fare così è chiaro che se è un cappello a a falde all'insù se piove vi viene dentro una piccola vaschetta d'acqua per cui è meglio che sia all'ingiù al tempo stesso se c'è sole bisogna ripararsi dal sole è meglio che siano all'insù così vedete un po' di più di strada e il bastone che aveva nelle mani il bastone è tipico del pellegrino del pastore di colui che si allontana da casa il bastone ti serve come appoggio ti serve anche come difesa da cani randaggi da banditi cioè è anche un'arma di difesa e in genere il bastone dei pastori ha una specie di ricciolo perché in cima ci puoi mettere qualcosa cioè ti regalano un caciocavallo già il termine dice che è un formaggio che si può appendere lo appendi al bastone sono alcune cose che i pellegrini appendevano al bastone e alleggerivano le spande per cui il pastorale dei vescovi è un bastone normale per gente che vive normalmente non è l'invenzione di un architetto famose le archistar moderne che si inventano le case poi succede che la croce crolla perché l'architetto ha voluto fare una cosa un po' strana il quale era venuto in quel giorno Costi cioè era venuto in quel luogo Illuc proprio lì vuol dire che era un povero pellegrino perché il cappello è da pellegrino il bastone è da pellegrino e chiamò sottovoce uno dei compagni e uscì fuori dalla porta del romitorio all'insaputa degli altri gli altri non lo hanno visto nel frattempo i frati entrano a mensa soprattutto perché era consuetudine a volte del santo padre che dal momento che non veniva subito per fare la preghiera di inizio all'ora del cibo quando i frati volessero mangiare voleva che i frati entrassero alla mensa per mangiare cioè se lui non c'è cominciate a mangiare aveva detto perché poteva capitare che arrivasse in ritardo il compagno suo d'accordo chiuse la porta rimanendo all'interno vicino alla porta cioè il refettorio la porta il compagno che deve fare le cose che Francesco adesso farà e il beato Francesco bussò alla porta e il frate d'accordo apre lui subito e venne con il cappello sulle spalle attenzione c'è un un laccio che vi permette di metterlo in testa ma metterlo anche sulle spalle quando non c'è bisogno e con il bastone nella mano qui dice nelle mani ma in genere il bastone non lo si prende con due mani se non quando volete dormire volete fare una pennichella in piedi prendete le due mani e il bastone fa da quasi divano anche quello è uno degli usi chiamò ad alta voce come un povero dicendo più che chiamò clamavit non è chiamare gridò gridò ad alta voce ma gridare è già gridare clamavit super super pauper come un povero chiama in genere i poveri da fuori alzano la voce sono qui apritemi ho bisogno per amore del Signore Dio amore domini dei fate l'elemosina a questo povero pellegrino e infermo pellegrino perché si era vestito da pellegrino infermo perché era malato vuol dire siamo negli anni 20 26 quel ministro e gli altri frati subito lo riconobbero e gli rispose il ministro che era bravo spiritualmente preparato fratello frater noi in simile modo siamo poveri cioè siamo poveri come te ma per amore di quel Signore che tu hai invocato entra in casa cioè avvicinati a noi e ti daremo delle lemosine che il Signore diede a noi cioè condivideremo con te quello che il Signore ha prestato a noi e dopo che era entrato e qui è molto bello anche stava davanti alla mensa dei frati non va a sedersi il ministro gli diede la scodella di vetro scutellam in latino e non ditemi che è un latinus chissà che cosa è italiano nella quale mangiava lui era l'inizio del pranzo per cui e del pane similmente il suo pane e prendendo Francesco sedette in terra vicino al fuoco dove si mangia c'è sempre il camino perché se c'è troppo freddo c'è non digerisci per cui c'è un camino dove c'è il refettorio dei frati vicino al fuoco davanti ai frati che sedevano a mensa in alto in alto vuol dire sulla panca e sospirando disse ai frati quando ho visto la mensa solennemente qui anche va cambiato onorifice in modo onorifico anche se onorifico non si usa e accuratamente preparata non era granché ma per la tradizione dei frati era cosa considerai che non fosse la mensa di poveri religiosi che ogni giorno vanno di porta in porta cioè sono dei mendicanti sono dei pellegrini come Gesù era mendicante e pellegrino ricordate sempre il Cristo Gesù sempre lui è il modello di ogni gesto francescano infatti a noi di questo più conviene in ogni cosa di seguire l'esempio di umiltà notate l'umiltà prima della povertà umiltà e povertà più degli altri religiosi che agli altri religiosi perché a questo siamo chiamati chiamati siamo e professi fumo di questo et togliamo davanti a Dio e davanti agli uomini il professo vuol dire che ho fatto un'alleanza pubblica un contratto pubblico un patto pubblico una professio pubblica tutti lo sanno che io ho fatto quel patto davanti a Dio agli uomini per questo ora sembra a me di sedere come un frate non dice neanche frate minore notate non dice ut frater minor ricordo che c'è anche il parallelo nello specchio di perfezione che ci sono delle esaltazioni più grandi del fatto e si vergognarono perciò i frati considerando che verità verità tendicere aveva detto il beato francesco e alcuni tra loro cominciarono fortemente fortiter a piangere considerando come lui sedesse in terra e come in modo così santo e discreto togliete santo più facile che sia discreto il testo originale discreto vuol dire con tale gentilezza non li ha rimproverati ha fatto dei gesti profetici si è preso il cibo e si è messo in terra vicino al fuoco non è un penitente che si allontana dal fuoco sa che ne ha bisogno per mangiare volle corrigere Eos quando Giovanni Paolo II dice mi corrigerete non è un errore per chi studia il latino è chiaro che era un errore perché non sapeva l'italiano del resto diceva che i frati così umili e discretemense avere dovessero avere devere in modo che i secolari potessero essere edificati e se qualche povero fosse invitato dai frati potesse sedere per terra vicino a loro non il povero in terra e i frati sullo sgabello perché poteva anche succedere perché gli sgabelli ce n'erano pochi erano contati i posti a sedere per cui o lui o tu e molte volte succedeva che il povero dice ma non vi voglio disturbare come San Francesco vado io vicino al fuoco anzi è meglio che stia io vicino al fuoco perciò il signor Papa Gregorio quando era vescovo di Odi era venuto al luogo dei frati presso Santa Maria della Porzioncola eccetera eccetera e qui narra il fatto che il Papa stesso quando era cardinale restò estasiato di fronte al fatto che i frati mangiassero in modo così povero giorno di Natale poi c'è un altro punto dove si dice un frate un'altra volta si azzardò il giorno di Natale a dire che la Beata Vergine Maria forse non aveva neanche da dare da mangiare Gesù Francesco si è messo a piangere e ha lasciato lasciato tutto capite capite che la regola Francisci è l'amore di Gesù e in Gesù del Padre e dello Spirito ci fermiamo qui spero che cominciate un po' intuire il giardino di delizi io lo chiamo così quando entriamo nel mondo francescano direte ma è un po' rigoroso il fatto scientifico ma è il fatto scientifico che poi ti conduce alla fonte più autentica cioè c'è anche lo speculum di perfezione ma lo speculum di perfezione anche qui c'è qualche aggiunta ma qui ce ne sono molto meno a laudi di Cristo et di santo Francesco Amen Amore Amore